Eccoci Lucia, allora hai sentito Maria una mamma che non ci abbandona mai e non abbandona mai i minimi. Voi avete sempre con voi questa medaglia miracolosa. Eh sì, con l'apparizione della Madonna del Miracolo o della medaglia miracolosa, i minimi attraverso questa medaglia vengono confermati in quello che è il loro carisma che ancora oggi è vivo nella Chiesa, cioè quello della conversione, quello della penitenza evangelica, ritorno al Signore in ogni istante della nostra vita. E Maria, apparendo all'ebreo Alfonso Ratisbonne in questa basilica, conferma tutto questo carisma già annunziato 600 anni fa da San Francesco di Pa. Grazie a Padre Francesco, al Rettore del Santuario, Lucia, per il momento è tutto, ci vediamo tra poco qui sempre. Ci contiamo, grazie Padre Francesco, grazie davvero al nostro Luca Rossi.